L'angelo dei muri è l'ultimo film di Lorenzo Bianchini, regista friulano, noto ai più per i vari film horror che ha girato negli ultimi 25 anni e anche con un discreto successo, nonostante siano film a zero budget, ovvero proprio poche migliaia di euro per ogni film e all'assenza di denaro, lui ha sopperito con una grande tecnica, con tanti piccoli stratagemi, piccoli accorgimenti curando il film dall'A alla Z da solo, quindi sia come scrittura, sia come riprese, come montaggio e anche limitando l'uso degli attori, nel senso limitando le parti recitate, perché appunto usando attori non professionisti il rischio era quello di avere una recitazione un po' ridicola, come capita in tanti film pseudo-amatoriali invece quelli di Bianchini non li definirei proprio amatoriali, perché si vedeva che il ragazzo aveva del manico, come diciamo qua in Romagna e questo film finalmente gode di un budget notevole, si parla di un milione di euro e questo si vede anche per la fotografia affidata a uno dei collaboratori di Werner Herzog e anche per l'attore protagonista che è Pierre Richard, un attore novantenne francese che ha un grande passato alle spalle, quindi è un attore esperto, molto bravo, come si vede anche nel film questa volta però non è un film horror, si tratta di un dramma raccontato coi toni, se vogliamo, anche della fiaba e con qualche spunto di thriller la storia è quella di questo anziano che viene sfrattato dalla sua casa e al momento di andarsene ha però l'idea di murare una parte di corridoio che finiva in una parte di corridoio che era cecca, non portava da nessun'altra stanza e di chiudersi lì dentro lasciando una botola per uscire e quindi continuare a vivere in quella stanza e quando fa questa cosa lui inizia a rivivere ciò che è successo all'interno della casa ecco qui non mi è chiara una cosa che è fondamentale se il regista vuole che noi spettatori capiamo che sta rivivendo quello del passato, quello che è successo nella casa e io penso che sia così oppure se vuol fare un effetto sorpresa tipo The Others non so se ve lo ricordate il film con Nicole Kidman dove non si capisce chi sono i fantasmi e chi sono le persone reali questo lo dico per un motivo perché se vuole far sì che noi capiamo che quello è un ricordo del passato ecco allora il film è abbastanza debole manca di tensione, manca di curiosità e quindi non è totalmente riuscito se invece vuole far sì che noi crediamo che quelli siano i reali inquilini attuali della casa ecco allora non funziona neanche da questo punto di vista perché ci sono troppi indizi che portano a farci pensare che in realtà stia rivivendo il suo passato quindi diciamo un film sicuramente non del tutto riuscito dal punto di vista proprio della costruzione della storia che pur poteva essere interessante a livello tecnico invece è un film grandioso diciamo realizzato veramente con molta cura con maestria è uno dei film più curati che ho visto usciti sicuramente tra gli italiani degli ultimi anni ma non solo molto bella la fotografia molto bello anche le scelte, le tecniche, i movimenti di macchina i punti di vista che il regista adotta quindi un film a cui io do la sufficienza un film che poteva essere molto molto meglio considerando anche il passato di Bianchini e che storie è riuscito a imbastire più ambiziose adesso il suo primo film il Driss Quadrate di 3 aveva una storia veramente molto ambiziosa e poi è il mio film preferito nonostante appunto sia un film già con una certa età e quindi girato in maniera il più motoriale di tutti se vogliamo ma aveva trovato delle soluzioni davvero notevoli e questo invece mi ha parzialmente deluso proprio dal punto di vista della storia che per quanto sia comunque una storia anche importante è raccontata in maniera forse fin troppo minimale e non riesce mai ad appassionare veramente lo spettatore Grazie Grazie Grazie.